Allora abbiamo pensato di proporre agli studenti che vedranno questa web tv o comunque coloro che si collegheranno di offrire dei materiali che non sono esattamente dei materiali didattici in un senso tradizionale che tuttavia forniscono un legame, un raccordo fra diversi insegnamenti. Per una sorta di casualità anche generazionale seppure non siamo tutti la stessa generazione il professor Pesare, il professor Moniterni e chi vi parla hanno un interesse che traspare dal modo di fare lezione di questi anni riguardo a un meta-argomento che attraversa aree disciplinari anche molto differenti l'una dall'altra. Mimo Pesare insegna psicopedagogia della comunicazione, Fabio Moniterni si occupa di letteratura italiana contemporanea in particolare, io mi occupo di sociologia di processi culturali o della comunicazione sono denominazioni così che cambiano per un ghiribizzo del legislatore eppure tutti e tre spesso a lezione facciamo riferimenti alla cultura giovanile facciamo riferimenti alla cultura giovanile italiana ma non soltanto italiana spesso prendiamo esempi dalla situazione del rock inglese oppure delle avanguardie storiche giovanili del Novecento o cose di questo genere. Allora potrebbe essere interessante provare a vedere l'impatto l'eventuale gradimento di una serie di materiali di cui questo è il primo e quindi naturalmente come tutti i prototipi risentirà di una scarsa organizzazione diciamo del testo per cui verranno fuori degli interventi non necessariamente congegnati per essere pensati insieme però vorrei che con una certa onestà noi dichiarassimo perché e ragionassimo sul perché ci piace fare riferimenti che abbiano a che fare con la cultura giovanile dando per scontato l'eliminazione di un argomento e cioè che si tratta di una cultura che dovrebbe in qualche maniera riguardare generazionalmente i nostri studenti che invece sono distantissimi ormai da un ambito generazionale cioè se pensiamo che quelli che a noi sembravano parlo per quelli nati negli anni 60 del novecento come me ma anche quelli nati negli anni 70 del novecento come voi diciamo hanno avuto una conoscenza diretta del punk oppure della new wave oppure del non so hanno visto in qualche maniera molto di più io che voi la parabola di un artista come Lou Reed hanno potuto diciamo comprare i dischi i primi dischi dei Talking Heads e vedere che poi si scioglievano e David Byrne faceva la sua carriera e così via comunque al di là di questo oppure Fabio che si occupa di letteratura ha potuto studiare naturalmente e apprezzare i testi di alcuni scrittori italiani in particolare italiani che hanno nel loro scrivere nella loro scrittura hanno inserito moltissimi elementi di un landscape di un paesaggio di un paesaggio giovanile anche in Italia in situazioni più o meno marginali l'ha fatto Tondelli che è il santo protettore di tutti i costoro ma insomma l'hanno fatto tanti altri con anche alterne vicende e talvolta anche controversi successi per cui potremmo riuscire forse oggi ciascuno scegliendo dei personaggi che possono risultare diciamo piacevoli da un punto di vista non tanto aneddotico ma esemplificativo di come la cultura giovanile possa entrare possa entrare nello sguardo di un ragazzo che vuole una ragazza che vogliano stare addosso ad una disciplina per esempio sociologia dei processi culturali comunicativi da che punto di vista si possono affrontare le questioni legate alla cultura giovanile è presto detto pensando che la storia della teoria sociologica incontra negli anni 50 e anche prima un blocco che si chiama funzionalismo o struttural funzionalismo l'espressione è tra le meno tranquillizzanti struttural funzionalismo insomma già si sente una sorta di cattedrale gotica con alcuni elementi di cultura pop non so astronave di guerre stellari lo struttural funzionalismo sembra la religione di un futuro neanche tanto vicino lo struttural funzionalismo spiega che vi è una indispensabilità funzionale di elementi della società cioè se non ci sono alcuni elementi la società non sta in piedi uno degli elementi che stanno in piedi pensando alla nostra società uno degli elementi che si rendono costitutivi dell'esistenza della nostra società è la cultura dei giovani allora uno potrebbe pensare scusa ma lo è da sempre cioè da sempre i sistemi sociali si basano su una integrazione su una ricezione oppure su un rifiuto o un ripudio delle classi di età più giovane più giovani per esempio nella cultura greca c'era un ruolo speciale del Paidos che prima di diventare militare oppure prima di diventare filosofo prima di diventare proprietario terriero e quindi con una serie di competenze legate alla cultura rurale era stato un giovane e quindi in quanto giovane veniva assimilato no non è esattamente così tutte le culture precedenti alla cultura dell'industrialismo cioè la cultura industriale sono culture che non puntano assolutamente all'integrazione dei giovani dentro un sistema diciamo che ammette una elasticità cioè nessuna cultura precedente alla cultura industriale accetta che i giovani siano un elemento di disordine controllato all'interno del sistema sociale i giovani devono integrarsi e basta non è prevista un'integrazione critica non è previsto che il giovane figlio della famiglia contadina di Servi della Gleba della Bassa Sassonia a 16 anni a 17 anni saluti il padre e la madre e si dedichi alla cultura musicale del suo tempo anche l'apprendimento del giovane non è legato a una sorta di autoformazione tutti i grandi del rock sono stati sostanzialmente degli autodidatti non è affatto prevista in questo modo l'unica maniera per riuscire a svolgere un'attività di tipo artistico musicale e quant'altro era stare dentro un canone e stare dentro un apprendimento che era legato a una canonizzazione per cui dovevi attraverso riti entrata conoscenza del mastro di bottega accettazione di sé come garzone di bottega e poi piano piano seguì una scaletta che ti portava ad essere poi non lo so anche nelle punte di massima qualità eccellenza Donatello Raffaello Michelangelo e quant'altro la cultura del capitalismo o per meglio dire la cultura industriale a partire proprio dal paese più avanti di tutti e cioè l'Inghilterra invece comincia a includere fin da inizio o metà ottocento una sorta di interesse verso una figura nuova che non è più quella del diciamo giovane per età ma che comincia a scaricare sulla dimensione giovane anche una serie di assetti valoriali nuovi c'è una ricerca che compare mi pare in un libro che si chiama storie dei giovani Oscar Mondadori non mi ricordo l'autore francamente che racconta come già nelle grandi città industriali dell'Inghilterra dell'ottocento ci fossero bande giovanili le bande giovanili intese non soltanto come gruppo di giovani sotto una certa età che passavano il loro tempo insieme e possibilmente in particolare il loro tempo libero quanto una serie puntiforme molto ampia di ragazzi e ragazze più facilmente i maschi che le femmine perché spesso le femmine anche in giovanità dovevano prendersi cura di tutti i fratelli minori i maschi cominciavano a stare fuori di casa per un numero elevatissimo di ore al giorno perché? perché il padre lavorava in fabbrica e questo è sicuro o in miniera questo è sicuro e in una grande maggioranza di casi anche la madre cominciava a prestare il lavoro nelle fabbriche nella condizione della classe operaia scritta da Engels la condizione della classe operaia in Inghilterra metà degli anni metà dell'ottocento sostanzialmente vengono descritte in maniera fin troppo cruda le condizioni di lavoro nelle fabbriche la condizione femminile non era una condizione più aggraziata più gradevole di quella maschile le ore di lavoro superavano le 10 al giorno e quindi è escluso che un nucleo familiare diciamo proletario in senso stretto fosse in grado di prendersi cura dei figli non esistendo tra l'altro sistemi anticoncezionali i figli venivano quindi erano tante le famiglie proletarie erano ad alto tasso di numerosità nella prole appunto proletarie e i ragazzi stavano fuori casa fuori baracca dove? nei pub? no perché i pub diciamo sono un'invenzione tipicamente dedicata alla classe operaia chi lavora aprono a una certa ora del giorno aprivano a una certa ora del giorno gli operai dopo aver fatto 12 ore di lavoro andavano praticamente a morire nei pub perché più che la birra bevevano acquavite e gin e si proprio disintegravano non tanto è vero c'erano dei pagliericci racconta Schivelbush in un bel ribor sulla sociologia diciamo delle sostanze psicotrope sì però l'alcol da molti non è considerato una sostanza psicotropa diciamo dei generi lui li chiama generi voluttuari più elegantemente e c'è appunto questa storia questa breve storia del gin in cui si capisce che appunto gli operai dopo un paio di bicchieri crollavano o anche di più crollavano su dei pagliericci dove si svegliavano la mattina alle 5 e ricominciavano a lavorare invece le bande giovanili di cui facevo riferimento sono gruppi di giovani che devono a mangiare qualche cosa a pranzo e b passare il tempo e quindi si organizzano come sistemi autoreferenziali dove l'autoformazione e lo scambio fra pari oggi va molto di morda questa idea della cultura dei pari erano praticate indifferentemente quindi si possono immaginare delle leadership facilmente espresse dai ragazzi un po' più grandi rispetto a quelli si può immaginare che si divertissero e facessero delle feste in cui c'era una anche minima organizzazione diciamo spettacolare musicale e quant'altro ma la cosa essenziale è che per la prima volta i giovani escono dall'ambito domestico e anche se vogliamo dal servaggio dell'essere utilizzati immediatamente appena in condizioni diciamo di affrontare un lavoro buttati nei campi come è nella cultura contadina il giovane nella cultura contadina è semplicemente nuova mano d'opera viene salutato il figlio maschio come una grazia del cielo da una famiglia contadina perché già a 7-8 anni possono essere impiegati nei campi tra le volte anche prima tra la metà dell'ottocento ed oggi ci sono infinite aere geologiche dal punto di vista dello studio della società però è anche vero che sono 150 anni c'è un periodo di tempo estremamente breve in questo periodo succede moltissimo possiamo tratteggiare velocemente appunto un inizio un barlume di condizione giovanile nei paesi più sviluppati prima l'Inghilterra poi la Germania la Francia il Belgio e quant'altro e infine quella generazione che chiude l'ottocento con per quanto riguarda l'Italia per esempio con un fortissimo slancio patriottico la questione la questione di riprendersi Trento e Trieste diventa una sorta di non so strano luogo di passaggio dove giovani giovani di 20 25 anni Guglielmo Oberdan cioè nomi dimenticati i sussidiari degli elementari anche nel mio caso voglio dire sono in realtà ragazzi che si inserivano all'interno di un filone di cultura europeo che comincia con il romanticismo e volendo penso che una prima osservazione su cui potremmo convenire è che le grandi correnti letterarie culturali e filosofiche dell'ottocento hanno dato una prima sistematizzazione alla cultura giovanile penso per poi cedere la parola a voi penso a un fenomeno come Werther per quanto riguarda Goethe scrittore all'epoca mainstream oppure Foscolo Jacopo Ortiz oppure non lo so appunto queste figure sospese tra la politica il patriottismo l'eroismo eccetera che hanno in qualche maniera così dato uno slancio particolare e anche particolarmente robusto all'idea che se si muore giovani si è cari agli dei che non è una frase della modernità è una frase della cultura greca che però diciamo in quello scorcio di ottocento dominato dall'ideologia romantica che poi potrà anche avere se vogliamo delle successive propaggini perfino in dannunzio quindi penetrando perfettamente nel novecento però diciamo si fonda si organizza in tono romanticismo non so se su questo siamo d'accordo qual è? qua questa cosa è molto interessante perché è una genealogia della cultura giovanile della modernità e sicuramente questo punto di inizio del romanticismo secondo me subisce una degenerazione con lo scorcio finale dell'ottocento cioè il romanticismo di cui parli tu Goethe Foscolo è quello ancora individuale di un soggetto borghese alle prese con i traumi esistenziali già in Foscolo però troviamo un innesto con la dimensione civile tutto l'ottocento è percorso da questa duplice spinta dell'individuo giovane alla ricerca della propria identità e valori allora ancora universali la libertà l'indipendenza e quindi il risorgimento e tutti i nazionalismi dell'ottocento questa cosa questa dimensione trova secondo me una prima degenerazione nel decadentismo più che altro per usare formule didattiche alla D'Annunzio che sposta assolutamente l'identità giovanile perché tutti i personaggi di D'Annunzio sono più o meno di un'età circoscrivibile tra i 20 e i 30 anni nel culto come sappiamo del superuomo quindi con la volgarizzazione del pensiero negativo tutto questo invece il ceppo forte del romanticismo anche con quella venatura libertaria ritrova secondo me una natura bella cioè importante da valutare anche in termini qualitativi nelle culture d'avanguardia del primo novecento cioè forse noi non ce ne andiamo conto ma i futuristi piuttosto che gli esponenti di una rivista importante che si chiamava La Voce sono giovani cioè portavano la loro freschezza la loro forza giovanile appunto tornando a quell'origine romantica rivendicando il nuovo per tutta la cultura italiana poi questo ancora una volta in quegli anni si innessa con il martirologio la cosa che dicevi tu chi è giovane e caro agli dei trova diciamo un riscontro storico nei martiri della prima guerra mondiale erano tutti volontari giovani molto spesso vedete come ci si ricollega proprio alle origini dell'identità italiana erano per esempio di zone periferiche i triestini italiani che dovevano in teoria combattere con gli austro-ungarici decidono di combattere da volontari con gli italiani da giovani e muoiono quasi tutti anche molti esponenti delle vanguardie del futurismo da giovani ora io vorrei fare un salto però in avanti anche un po' per allacciarmi alle cose che condivido con Mimmo il mercato editoriale ma soprattutto nel suo caso musicale cioè cosa diventa il feticio o comunque cosa diventa l'identità giovanile nella letteratura diciamo negli anni 80 facciamo questo salto in avanti una scaletta minima proprio anarchico fin in fuori dobbiamo mica dovremmo essere storicisti ho capito però ci possiamo fermare intorno a questa cosa che hai detto che l'avanguardia storica per esempio era giovanissima non è una cosa così nota infatti non è nota che Alfred Jarry che poi è considerato diciamo il prototipo del giovanotto artista geniale e maledetto e modi avesse 22 anni quando ha scritto una schiera quando ha scritto Bourouin Breton Duchamp era uno dei più vecchi aveva 30 anni 27 anni quando hanno fatto la prima esposizione d'arte universale quella con i sacchi di sabbia attaccati ma è chiaro che in questo c'è il ritorno ripetiamo alla tradizione del romanticismo è chiaramente una rivendicazione che non è solo generazionale ma epocale cioè è una modernità una tradizione della modernità innovativa che cerca di spazzare via i residui del passato quindi lì si incrociano c'è anche per esempio una sensibilità enorme nei confronti delle tecnologie perché sia i futuristi in senso addirittura pro-machinico cioè la macchina in quanto futuro dell'uomo la distruzione di Venezia perché Venezia è un'anticaglia e una prostituta passatista eccetera l'elogio della guerra un'altra cosa che non può essere presa in termini letterali ma casomai come esigenza di rigenerazione complessiva a meno che non vogliamo leggere appunto Marinetti come un assoluto fascista cosa che diciamo è messa in discussione da molti critici ormai da molti storici della letteratura il passaggio tra la prima guerra e la seconda guerra anche questi sono un momento fondamentale sempre di creazione di premesse benissimo creazione di premesse perché anche il diciannovismo e cioè i prodromi del fascismo sono pieni di volti giovani di persone uscite male dalla prima guerra mondiale molto spesso in Italia piccolo borghesi a livello di massa quindi con una possibilità di oscillazione fa una soluzione economica del proprio problema borghesia oppure un precipitare negli inferni del sottoproletariato perché la piccola borghesia comunque ha un'oscillazione non molto accentuata fra queste possibilità e poi allora per venirti dietro arriviamo alla fine della seconda guerra mondiale con i bambini i bambini tedeschi che combattono sulle barricate che ormai sono diciamo anche simbologicamente totalmente diciamo non so disperanti nell'idea di essere attaccati da un esercito sovietico che comunque sta beneterno e dall'esercito americano degli alleati che sta arrivando dall'altra parte la generazione che ha 15 anni quando finisce la prima guerra mondiale cioè nel 1945 ne avrà 30 negli anni 60 no? allora la generazione che ne ha ancora meno cioè quindi che è nata sotto i bombardamenti esempio John Lennon mi pare sia nato nel 40 Paul McCarty è nato nel 42 e moltissimi artisti che adesso hanno 70 anni compresi i Rolling Stones sono nati in quegli anni cioè negli anni in cui Churchill quasi sicuramente ubriaco perché questa è la sua condizione abituale era un alcolista cioè un bipolare prendeva decisioni proprio nel senso letterale sulla testa sulla testa di questi futuri idoli del rock dopo la seconda guerra mondiale dicono tutti i manuali di sociologia la figura giovanile ha un ulteriore irrobustimento sociale cominciano a girare dei soldi i ragazzi si iscrivono alle liste di collocamento o cominciano direttamente a lavorare e si crea quello che diciamo in qualche modo abbiamo soprattutto studiato ed esemplificato cioè un'enorme diffusione musicale un'enorme diffusione artistica un'enorme diffusione anche direi cinematografica che ha a che fare con la cultura giovanile adesso sì possiamo ricordare sì anche adesso va bene andiamo facciamo il percorso lineare di uno storicista serio tutta la come dici tu è preparatoria cioè la generazione sotto il fascismo che secondo me in generale la cultura italiana non italiana la cultura europea tra le due guerre è molto trascurata invece forse è un periodo decisivo allora tutta quella generazione lì ci sono i diciamo giovani fascisti organici ma ci sono anche le fronde antifascisse che vivono durante gli anni del fascismo Jaime Pintor sconosciuto muore giovane ancora lì quindi il culto della gioventù in questo caso per esempio molto pronta all'esilio e alla clandestinità giusto quindi questo provoca secondo me una soffertissima identità giovanile e attività anche culturale legata all'identità giovanile tra anni 40 e 50 quello è proprio davvero un periodo da ricostruire da un punto di vista della storia sociale e della cultura perché davvero bisogna risistemare i pezzi con tante diciamo bisogna fare i conti anche con uno scacchiere internazionale della guerra fredda perché invece il discrimine come accennavi tu è quello degli anni 60 cioè sicuramente senza necessariamente mettere in un cono d'ombra tutto quello che arriva prima perché secondo me invece è interessante continuare a monitorare la cultura giovanile sia tra le due guerre sia tra gli anni 40 e 50 ma sicuramente il discrimine più eclatante più rumoroso è quello degli anni 60 diciamo a cominciare da Elvis sicuramente da noi forse Celentano mettiamola così Celentano senza Elvis non è dato del pop poi va bene io adesso magari mi fermo perché invece sono un po' fino più come dire battagliero su loggi cioè diciamo no vabbè ci arriviamo ci arriviamo innanzitutto il percorso socio storico che avete ricostruito mi sembra che sia ininquevocabile cioè sono questi i grandi grandi punti da tenere in considerazione una prima così un primo pensiero che mi sembra interessante è quello secondo il quale probabilmente occorre innanzitutto far chiarezza tra due concetti che sono appunto la subcultura in quanto tale che giustamente come dicevate nasce anche con l'industrializzazione dei media della musica in particolare però come diceva Stefano Cristante la subcultura non nasce ex novo come subcultura ma possiede i suoi prodromi in un insieme di scenari che disegnano comunque un'identità giovanile che come giustamente osservate entrambi parte dai grandi veltanschauung della modernità dall'ottocento dal novecento quale può essere quindi questo discrimine innanzitutto appunto c'è una sorta di anno zero che probabilmente essendo d'accordo con chi si occupa di questi studi penso a Ebbdige soprattutto nasce a partire dalla seconda guerra mondiale dagli anni cinquanta dal secondo dopoguerra e quindi questa considerazione non può fare non può che portarci a un corollario è quello per cui evidentemente c'è un ruolo molto incisivo nella nascita della subcultura giovanile ad opera della industrializzazione della musica nel senso che se noi pensiamo comunque alle subculture tra virgolette chiamiamole per adesso subculture precedenti a questo rasso di tempo che sono quelle che noi possiamo già vedere in Gangs of New York per esempio o in appunto come dicevate nei moti carbonari o in tutto ciò che era funzionale non a un'identità giovanile to cure quindi a un'immagine giovanile ma a uno scopo che poteva essere politico che poteva essere quello della difesa del territorio come nel caso New York eccetera però anche in quel caso la musica seppur esiste non dimentichiamoci che nell'Ottocento inizio del Novecento la musica è ancora un medium d'elite nel senso che la musica folk la musica popolare non conosce dei vettori di popolarizzazione appunto che hanno che giacciono su mainstream come potevano essere nell'Ottocento il grande circolo di concerti dell'opera dell'operetta della lirica della musica classica che era il grande medium di quei tempi quindi probabilmente l'atto di nascita della subcultura in quanto tale avviene appunto con quel tempo quell'asso di anni in cui l'identità giovanile si riconosce si riverbera in un'immagine musicale o di identità musicale attraverso la divulgazione industriale e quindi io penso prima di Elvis al primo grande circuito del jazz per esempio all'Albibap alla Decca come casa discografica quindi i primi la prima commercializzazione molto diffusa del disco del 78 giri all'epoca non c'era neanche il 33 giri chiaramente il rock prima del rock la motown il soul sono stati probabilmente il blues sono stati forse la cucina più ricca si che magari partivano con i movimenti off secondo me questo è un po' un paradosso interessante il rapporto che c'è tra la nascita dell'industria editoriale e le subculture giovanili non è una cosa insomma da liquidare l'industria culturale vuol dire editoriale musicale editoriale sì ma c'è un passaggio abbastanza sfumato c'è un passaggio secondo me sfumato che riguarda appunto il transito degli anni 50 e degli anni 60 se io penso a una subcultura come Rude Boys della Giamaica lì c'è ancora un input politico molto forte che invece verso gli anni con l'infine degli anni 60 i scienziati sociali potrebbero dire col postmoderno con la postmodernizzazione della cultura comincia a scemare fino ad arrivare a quella espressione probabilmente un po' abusata che tutti noi sentiamo spesso del cosiddetto edonismo riflusso degli anni 80 però questa transizione mi sembra interessante cioè la subcultura potremmo accettare così queste ipotesi per cui la subcultura nasce come un'aggregazione identitaria che ha a che fare con degli scopi tra virgolette alti possono essere quello di non lo so inclusione sociale politica eccetera e piano piano comincia a diventare un medium che dice già di sé quello che è il suo segno costituente e quindi le subculture dagli anni 60 in poi specialmente poi come vedremo se abbiamo tempo tutto ciò che riguarda il periodo del punk a oggi costituiscono un segno costituente già di per sé stesse invece che come funzionali a un progetto per esempio sociale o antropologico o sociale o politico questo potrebbe essere prima vorrei che dedicassimo qualche minuto ancora a ragionare su un decennio che sembrerebbe così in qualche modo stravagante rispetto a quello che stiamo dicendo perché non è né tra i decenni di guerra né dei decenni delle avanguardie storiche eccetera né però ad industria culturale risolta tra virgolette cioè gli anni 50 gli anni 50 sono una gestazione molto strana perché prendete alcuni punti di riferimento non so beh abbiamo già detto Elvis il primo successo di Elvis è del 56 e le forme in cui Elvis diciamo si muove fa concerti eccetera sono anche oggi in grado diciamo di turbare lo spettatore meglio la spettatrice che non ha mai visto una performance del genere prima Elvis si incardina come bianco si incardina però su una cultura nera in particolare legata al gospel cioè alle chiese e al blues come musica diciamo struggente dell'anima e questo ci fa riflettere sul fatto che comunque una parte delle culture giovanili strutturate proviene da una identità tra virgolette etnica che poi l'industria culturale pialla pialla e riorganizza in settori invece diciamo olistici che possono andare bene per i giovani giapponesi già negli anni 60 per i giovani italiani per i giovani inglesi ovviamente eccetera quindi la ricerca di una globalizzazione della cultura in fondo il rock è uno dei fenomeni che indicano la globalizzazione della cultura cioè uno come mentre uno come Puccini oppure uno come Verdi era famosissimo rispetto a un pubblico diciamo sicuramente di elite e anche un pubblico popolare però formato e attento in occidente invece Elvis Presley è uno che arriva da appunto Minneapolis o Memphis fino a la Nuova Zelanda il Giappone in India e poi naturalmente trasborda in Europa al punto tale che diventa appunto di riferimento non soltanto per la musica rock inglese ma anche per quella italiana come imitatori di eccezione come Celentano e non solo Celentano ma poi allora Elvis l'abbiamo preso poi però pensiamo James Dean un'altra roba fortissima no? identificazione estetica fra il bello il maledetto e anche il fragile fragilissimo no? i personaggi James Dean sono apparentemente forti sono apparentemente in grado di correre a 200 all'ora in moto ma la verità è che di fronte a un padre autoritario cadono in ginocchio non vengono capiti sono più contorti che non sono ribelli senza una causa sono archetipali anche sono archetipali se possiamo prendere questo sono assolutamente perché se pensiamo al decadentismo ci sono già questi elementi anche il romanticismo però il decadentismo riveste di una cornice diciamo adornativa tutto questo mentre invece il cinema americano è brutale nel confessare lo scollamento fra i giovani e l'idea di un futuro ordinato tra l'altro la morte di James Dean in senso proprio fisico il suo incidente di macchina mette fine allo sviluppo della sua carriera che era straordinario perché era giovanissimo aveva già preso un sacco di premi ma nello stesso tempo riconferma l'idea del giovane che muore essendo caro agli dèi se poi prendiamo un'altra un'altra icona Marilyn è degli anni 50 e laddove il corpo maschile esce in qualche maniera ridimensionato dalla seconda guerra mondiale perché James Dean non è un grande un grande macio più tardi non so in Europa Land Elan rappresentano tutti una forma di uomo femminilizzato in qualche maniera o comunque più androgino mentre invece le donne in quel periodo sono pin up sono pin up e sono maggiorate cioè come se le donne dovesse dimostrare attraverso un fisico fluorescente la buona educazione ricevuta anche dal punto di vista alimentare il loro appartenere ad una diciamo a una giovinezza che sta per farsi prosperità la cultura del baby boom no? baby boom certo le donne devono fare un sacco di figli in quegli anni è meglio se sono giovani e mature giovani che si tingono i capelli perché Mary Lee non era bionda per esempio poi altri archetipi degli anni 50 non è difficile trovare artisti maledetti negli anni 50 credo che le ultime cose significative scritte da come si chiama l'autore del tropico del cancro di capricorni la big generation nasce ecco esatto l'altra cosa a cavallo tra gli anni 40 e gli anni 50 in realtà c'erano state le scordibande di Kerouac per l'America insieme ai suoi amichetti della pre-beat generation quindi quello che noi registriamo negli anni 60 in Italia è avvenuto in America alla fine degli anni 40 e quindi comincia questo ritardo di circa 10 anni 10-15 anni fra l'industria culturale diciamo americana e l'industria culturale europea in particolare quella italiana perché noi abbiamo i nostri miti cioè noi costruiamo noi prendiamo dalle culture dominanti alcuni elementi appunto il caso il caso Celentano Celentano non è che quando ha successo continua a imitare Elvis Presley è come se fosse una variante italiana come se fosse un supereroe tipo l'uomo ragno però nato a Matera cioè chiaramente dovrebbe sapere andare in grotte in situazioni tipiche di quel territorio ma lo stesso fenomeno degli IP del resto in Italia fiorisce negli anni 70 mentre nell'America del Vietnam era già un fenomeno di contestazione molto forte comunque negli anni 50 e fino ai tardi anni 60 in Italia gli studenti universitari debbono avere maschi debbono avere la cravatta la giacca e la cravatta cioè un intero mondo di diciamo ortodossie ancora per i primi anni 60 tanta regge poi esplode oppure si trasforma come nel caso dei mod che mantengono questo abbigliamento apparentemente ortodosso e invece poi c'è tutta la cultura per esempio dell'anfetamia della velocità quella è una maniera diciamo di uscire di scardinare la cultura dominante facendo finta di estremizzare i suoi stessi elementi allora l'impiegato di banca si veste con la cravatta anche noi ci mettiamo la cravatta la nostra cravatta è così fina così magra che diventa una parodia dell'impiegato oppure ci mettiamo anche noi il cappotto come piace ma è un parca cioè simula capello corto ma col caschetto capello corto ma col cappello strano i tanti specchietti sulla lambretta sulla vespa eccetera eccetera e qui comincia l'avventura raccontataci da The Cap di Jeans Up Culture no? I mozi punk più avanti la relazione tra le avanguardie però e queste subculture viene completamente ignorata nella pubblicistica scandalistica o di di destra sì reazionaria gli stessi che negli anni 50 dicevano che i fumetti facevano male ai ragazzi adesso dicono che vestirsi in un certo modo comporta un disordine sociale non solo estetico eccetera però invece un altro tipo di diciamo di riflessione come quella di Di Capdige che è diciamo un antropologo in qualche maniera appartenente alla scuola di cultural studies ultimamente abbiamo anche un po' perso le tracce ho scritto un tipo qualche anno fa proprio sulla vespa mi pare poi lui metteva in relazione questo fatto cioè che se noi vogliamo capire sed vicious dei ovviamente dei Sex Pistols non possiamo non capire i futuristi o i dadaisti forse soprattutto per esempio l'uso dei simboli nazisti in modo decontestualizzato cioè non volendo predicare il nazismo ma casomai lo schifo per il nazismo e anche lo schifo per quello per coloro che hanno detto di voler combattere il nazismo in questa specie di dialettica del negativo Johnny Rotten o Sid Vicious o gli altri devo dire ben instradati da un situazionista come Malcolm McLaren guarda caso il manager dei Sex Pistols è un situazionista extra schist letterista sì allora nel momento in cui il punk predica una serie di items negativi non lo so No Future per esempio l'odio verso il mondo adulto l'odio verso il mondo dei fighetti l'odio verso il mondo del cool anche che invece in quegli stessi anni in Inghilterra sta quasi parlando di sopravvento per esempio non più fanzine così ma Time Out City Limits cioè riviste patinate che parlano di tendenze di modi giovanili no? no non solo poi voglio dire il punk si innesta anche in un periodo in cui il mercato discografico è dominato dal fenomeno musicale del glam che è anche una sottocultura glam rock gruppi come come il T-Rex come ma anche Gary Glitter Gary Glitter Gary Glitter un personaggio un po' sì sì e credo che sia morto e quindi c'è proprio questo schiaffo no? questo tipo di buonissimo allora adesso ci avviciniamo un attimo a quello che proponeva Fabio qualche minuto fa e cioè facciamo un salto adesso possiamo farlo penso no? anni 80 c'è chi dice che dagli anni 80 in poi non è più successo niente beh è questo benissimo dagli anni 80 c'è il primo romanzo di Tondelli altri libertini che è uno scandalo il libro viene sequestrato il povero Tondelli non vivrà molto a lungo per godere del suo successo che comunque è unanimemente riconosciuto o quasi fin dalla sua epoca e se vogliamo mettere insieme una serie di tasselli negli anni 80 gli anni 80 sono gli anni di piena esplosione del gruppo di autori di Frigidaire prima di tutti Andrea Pazienza Stefano Tamburini e così via la stessa cosa si può dire nella musica c'è un florescenza di gruppi interessanti no? gli area che chiudono gli anni 70 in qualche maniera e non lo so i gruppi della scena bolognese forse in passaggio rappresentato dai Gaznevada da Bologna che passa dalla musica un po' più barocca del progressive al post-punk e poi tutta tutta la scena ironico anche degli schiantos gli schiantos e poi c'è tutta questa scena italiana che non ha nulla da invidiare credo alla scena europea nel senso che la grande scena di Firenze FIBA diaframma raccogliendo secondo me un'eredità interessante degli anni 70 cioè la pratica alternativa di distribuzione cioè non hanno rapporti immediatamente con le grandi etichette cercano almeno all'inizio etichette indipendenti appunto di raccogliere l'eredità di un grandissimo movimento capillare degli anni 70 che secondo me è la cosa forse migliore da un punto di vista culturale dei movimenti antisistema cioè appunto la possibilità secondo me più che mai attuale di agire in modo alternativo rispetto alla distribuzione quindi un'altra volta all'industria editoriale però secondo me abbiamo poco tempo c'è sempre un paradosso bisogna essere molto bisogna giocare un po' con l'equilibrio cioè gli anni 80 fino ad oggi la volgata istituzionale anche accademica con le responsabilità dell'università vuole che la letteratura italiana contemporanea sia finita tranne il bestseller di eco anche perché appunto muoiono molti scrittori gli ultimi grandi scrittori della modernità da Pasolini già qualche anno prima sciaccia eccetera musica teatro c'è un po' questa retorica di recente un simpatico quarantenne poeta non solo suo alfabeta si chiama Andrea Anghiese ha attaccato Alfonso Berardinelli con un articolo bellissimo gli scavatori di fosse cioè prendendosene ancora una volta con questo tizio che è rispettabilissimo anche tu lo conoscerai come intellettuale eccetera che dalle colonne del sole 24 le sera piglie e dice non c'è un cavolo da fare la poesia contemporanea è finita bisogna rivolgersi ai classici era un altro trombone come Pietro Citati che un po' di mesi prima aveva fatto lo stesso attacco ma non è nemmeno un attacco all'ordine del giorno perché secondo me è entrato proprio nel senso comune cioè c'è una grande stagione anche giovanile che è tramontata questa è un po' la vulgata secondo me ovviamente va smentita con dati di fatto che adesso magari poi diremo però nello stesso tempo bisogna stare attenti alla strumentalizzazione sempre da parte dell'industria editoriale proprio negli anni 80-90 del giovane per esempio ho scoperto nel 1981 già nel 1981 l'85% del catalogo di Rizzoli e Mondadori era fatto di esordienti in questo Tondelli non c'entra niente cioè Tondelli prende proprio un'altra strada sana però l'industria editoriale si accorge che può diciamo così rielaborare riciclare il mito del giovane il giovane esordiente che arriva fino ad oggi arriva fino a pochi anni fa in letteratura con Paolo Giordano in un qualche modo anche con Gioventù Cannibale del 96 quindi secondo me dobbiamo essere attenti sconfiggere questa retorica apocalittica dei tempi andati della scarsità che vorrebbe documentare una scarsità della produzione culturale giovanile cosa assolutamente da bollare da rifiutare nello stesso tempo però essere molto attenti a come l'edonismo il narcisismo di massa fenomeni diciamo costitutivi degli anni 80 e 90 che ovviamente partono dalle culture giovanili si aggancino con diciamo il mercato e con le esigenze dell'industria editoriale perché la politica dell'esordiente ora non soltanto in campo musicale ma sicuramente in campo dell'editoria letteraria è stata davvero uno strumento di merce cioè per dare aria per far vendere i libri c'è chi interpreta la storia dei giovani come una storia delle modalità con cui l'industria culturale è riuscita a integrare e a fare proprio e proprio di quel mercato il mercato più grosso quello giovanile di tutti i mercati quello maggiormente e questo secondo me in un corso di laurea come il nostro per arrivare a una conclusione provvisoria poi magari faremo degli altri incontri magari con altri docenti che si occupano di cose che hanno derive simili alle nostre si può osservare in pratica diciamo da un corso di laurea come il nostro si può osservare come i mezzi di comunicazione e l'uso dei mezzi di comunicazione pensiamo al riutilizzo dei tazzebao al riutilizzo delle fanzine al riutilizzo poi degli audiovisivi quelli fatti proprio hand made con il Super 8 si è sempre stato fatto in particolare da gruppi giovanili che poi hanno rimandato questo tipo di attenzione anche artigianale diciamo fino ad arrivare al media center di Genova nel 2001 o delle più recenti manifestazioni fortunatamente meno tragiche di quella di Genova 2001 comunque questo era diciamo per dimostrare a coloro che eventualmente dovessero vedere la trasmissione che magari stanno facendo la giornata di maturità e stanno pensando dove andare a collocare la propria forza lavoro intellettuale nei prossimi tre anni che il corso di laurea in scienze della comunicazione è molto interessato a ragionare in termini diciamo ampi di fenomeni che apparentemente sono esclusi dalla sfera maggiormente tecnica che ci richiede il ministero quando creiamo un corso di laurea di interdisciplinarità sono assolutamente trasversali a una serie di saperi che possono invece essere messi a frutto e messi insieme proprio per indagare questi fenomeni diciamo che l'interdisciplinarità a cui si riferiva adesso Mimmo Pesare che ovviamente un nostro sguardo obbligatorio non è affatto premiato dalle organizzazioni ministeriali dei corsi laurea cioè anzi tutto ciò che è interdisciplinare subisce un abbassamento di punteggio nella valutazione si va di nuovo verso lo specialismo che è una scelta folle che tra l'altro proprio i movimenti giovanili hanno più volte dimostrato negli ultimi 30-40 anni che si può non mai passare va bene noi abbiamo finito e non dimenticate uscite da Facebook ed entrate nei bookshop e non dimenticate e non dimenticate